Meghan Markle ha cercato di umanizzare se stessa e di farsi percepire dal pubblico come ancora riconoscibile nonostante la sua posizione. Meghan Markle potrebbe mettere in dubbio la sua autenticità dopo aver adottato una strategia di pubbliche relazioni collaudata per il suo primo discorso agli Invictus Games di quest'anno in Germania. La duchessa di Sussex si è unita al principe Ferri quattro giorni dopo l'inizio della partita, scusandosi per il ritardo citando il suo desiderio di trascorrere più tempo con i loro figli, il principe Archie e la principessa Lillivet. Nel discorso, Meghan ha descritto il suo bisogno di accompagnare Archie a scuola e ha offerto uno sguardo alla loro vita quotidiana, dicendo che ha offerto a entrambi i bambini dei frappè per addolcire la loro separazione. L'esperta di pubbliche relazioni René Smith ha dichiarato al Daily Express US che condividere aneddoti familiari personali è una strategia consolidata che i personaggi pubblici utilizzano regolarmente per creare un rapporto con il pubblico. Ma Smith ha notato che parlare dei bambini potrebbe essere percepito come una «mossa calcolata» che alla fine potrebbe lasciare la duchessa di fronte a domande sulla sua «autenticità». Il fondatore di Atticism PRA ha affermato «Condividere aneddoti personali sulla vita familiare è un metodo collaudato per umanizzare se stessi e promuovere un senso di relazionabilità con il pubblico». Permette al pubblico di connettersi con personaggi pubblici a un livello più personale, poiché possono identificarsi con le gioie e le sfide della genitorialità. Tuttavia, è importante procedere con cautela quando si interpretano tali affermazioni. L'affermazione di Meghan di essere una madre impegnata, in particolare nel contesto della sua fitta agenda, e della presenza di una tata, solleva dubbi sull'autenticità della sua affermazione. Anche se può davvero dare priorità ai suoi figli, c'è il rischio che questa affermazione venga percepita come una «mossa calcolata» per modellare la sua immagine pubblica. Grazie per la visione!